Salve a tutti, ben ritrovati di pomeriggio. Partiamo di nuovo con le nostre lezioni sul forest gardening, con quella che era rimasta l'ultima delle voci da sottolineare, da osservare, da controllare. Era la manutenzione di questo giardino foresto. L'ho lasciata per ultima in questa parte perché la manutenzione richiede già quelle problematiche di cui siamo venuti a conoscenza in queste ore, in quanto con la manutenzione che noi andiamo a immettere, decidiamo e controlliamo tutto il nostro ecosistema. Sembra esagerato, ma in realtà con una ratura, uno sfalcio in più o in meno può portare risultati molto diversi. Basta pensare, solo immaginare, la manutenzione viene fatta ai frutteti o ai campi agricoli intensivi. Lì la manutenzione è qualcosa di diventato, l'hanno forzato, facendo diventare indispensabile per certi versi. A volte non è più manutenzione semplice, è diventata una forzatura, ma purtroppo non si riesce a combinare molto se non si interviene e anche in modo incisivo. Allora, prima la parte della manutenzione è rimuovere il terreno e già qui la strada si divide perché molte tecniche della permacultura ne fanno volentieri a meno. Dipende, io aggiungo, innanzitutto cominciamo a vedere da dove partiamo, come il nostro terreno, perché se è estremamente compatto affinché diventi soffice c'è bisogno di un tempo più lungo. Se invece è un terreno più soffice già di sé, per natura, naturalmente si può tentare con minime areazioni, con minimi interventi, ma questo riguarda per gli alberi. Per gli ortaggi è sempre un altro paio di mani, che ritorniamo alla problematica del primo giorno, cioè mettiamo degli ortaggi, sono piante erbacee delicate, tra piante erbacee forti, competitive. Non è semplice infilarle in un prato e farle crescere senza tagliare, finché si crea l'equilibrio la pianta domestica, la piantina nostra da ortaggio ha finito il suo ciclo, perché hanno una vita molto breve. Se voi pensate, gli ortaggi, che vita brevissima che hanno, perché si dà a queste piante, si è stata fatta la selezione su queste piante per fare in modo che producono tanto, subito, e poi si toglie tutto perché si sostituisce con un'altra produzione, in modo da utilizzare lo stesso terreno con produzioni diverse nel corso dell'anno. Nel nostro orto non c'è di questa fretta, ma le piante hanno sempre la stessa problematica. E allora si ritorna, purtroppo mi dispiace di ripetere le stesse cose, si ritorna alla necessità di trovare dei semi di varietà antiche un po' più resistenti. Semi più resistenti in alcuni ambienti ce la fanno, riescono ad andare. Se gli si dà però un vantaggio alle nostre piante, semi resistenti, mi riferisco per esempio a delle varietà di fave, ceci o gli stessi cereali, ce ne sono alcune erbe da foraggio introdotte da un po' di anni che si chiama trifoglio incarnato, è un trifoglio che può essere seminato, dicevo con qualcuno, addirittura può essere seminato sul prato, anche se è un duro e compatto. Si semina sul prato e produce un'abbondante quantità di foraggio a seconda poi dei nutrienti che ci sono nel terreno. Se non ci sono tanti nutrienti non è da preoccuparsi perché è una leguminosa, quindi comincia a fissare un po' di azoto e prepara il prato alle specie che verranno dopo. Queste specie, tutte le specie che noi coltiviamo, non hanno la capacità di autoriprodursi e di andare avanti da sole, per quanto possano essere forti. Anche un semplice aglio, una cipolla o piante che hanno dei bulbi, quindi scappano sotto terra e si nascondono, nella generazione successiva, piantiamo un aglio, una cipolla, il primo anno avrà dei bulbi piuttosto grossi, nella generazione successiva diventeranno più piccoli, quasi a volte la metà. E quindi coltiviamo una qualità di verdure, di spezie di dimensioni minori. Quelle più piccole perché? Perché essendo più piccole hanno un ciclo diverso e riescono un po' a competere in più. La rimozione del terreno è qualcosa di sconvolgente, certo, però come si suol dire, scusatemi la battuta, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. È bello pensare di non smuovere in certi casi. Nel frutteto è possibile. Dicevo già altre volte, ci sono arrivate con la conduzione a prato, anche nel vigneto. E va bene, perché sono piante arborie che competono con l'erbacee. Quattro sfalci, un po' di attenzione e vai avanti. Ma tra piante erbacee e tra piante dello stesso livello la competizione, vi assicuro, è fortissima. Solo perché le piante non gridano, non si esprimono e non strillano, la competizione è comunque fortissima. Per la prima cosa, conquista della luce. Le piante selvatiche si espandono, coprono tutto intorno e cercano di prendere quanta più luce possibile. Addirittura la competizione è anche tra piante selvatiche della stessa specie. Le erbe nei prati. Sembra che nascono, vanno avanti tutte tranquille, va bene, ma anche loro, tra piante della stessa specie, ci saranno quei semi che hanno una molla, una spinta in più, per diventare un po' più grandi o per crescere un po' prima o per acciappare i nutrienti un po' prima delle altre intorno e qualche piandina diventa più grande e le altre intorno restano più piccole, eppure è lo stesso terreno. Immaginate la stessa invece competizione con le piante domestiche. Altro elemento di manutenzione è sfalciare. L'attrezzo per un piccolo giardino è idilliaco utilizzare la falce manuale e può essere anche una forma di ginnastica, chi la proferisce. Però vi assicuro che su superfici un po' più grandi sfalciare a mano richiede delle tecniche e delle conoscenze particolari. È pericoloso già di per sé affilare quell'attrezzo che durante una giornata deve essere affilato continuamente, visto che sfalciando incontra bacce più resistenti, pietre o zolle di terreno e perde il taglio. Allora c'è il decespugliatore, ci vede incontro, però il decespugliatore attenzione perché serve a controllare i prati, ma il suo taglio è un taglio brutale, aspro. Il filo del decespugliatore di solito non trancia di netto una piantine ma la sfilaccia, la sfibra. Quella parte sfilacciata e sfibrata rimanendo al sole deperisce e molto spesso le piantine fanno un'enorme fatica a riprendersi. Infatti se si va con il decespugliatore nei rovi, se si insiste in un roveto per due o tre volte all'anno, i rami che ne verranno fuori, quindi i nuovi getti saranno sempre più piccoli. Perché? Perché prima c'era un potenziale delle radici che riusciva a tirare un sacco di rovo, poi non gli hai fatto fare la fotosintesi e quindi ha perso nutrienti nel terreno e ogni volta deve utilizzare i nutrienti che stavano nelle radici per spingere la parte di pianta che sta crescendo. Il decespugliatore svolge un'azione molto simile alle capre. Le capre fanno una cosa del genere e anche altri erbivori. Mordono le piante, i batteri presenti nella loro saliva sono degli anticrescita naturali per le piante, per cui un gespuglio rosicchiato mangiato dalle capre se non secca tenderà a rimanere piccolo, compatto, rachitico, quasi come un bonsai per via dei batteri che stanno all'interno del boc e per via del morso perché la pianta viene comunque in qualche modo infettata. È un attrezzo veloce del gespugliatore, lo conosciamo penso abbastanza bene, ma è pericoloso non solo per le piante, ma anche per la propria incolumità, dato che bisogna avere delle attrezzature di schermo piuttosto buone e di buona qualità e che coprano non solo gli occhi ma anche il viso perché alla velocità con cui gira quella frusta possono partire delle schegge di legno o di terreno o pietruzze spesso come proiettili. Se si usa l'altro attrezzo, se si cambia la lama e si taglia, la lama va bene per i rami piuttosto grossi, da un centimetro in su, però devono essere molto folti perché se vai con la lama nell'erba consumi solo miscela e non riesci a recuperare niente. La lama si taglia bene, trancia di netto, però ci devono essere molti, ripeto, molti rami, molti arbusti tutti vicini, altrimenti la lama non riesce a prenderli tutti. È sconsigliato assolutamente usare catene e altri tipi di attrezzi che si montano perché c'è stato un periodo in cui erano uscite dei tratti di catena che facevano da filo. Queste sono terrificanti perché se a terra trovano un elemento metallico, un pezzo di lamiera, può capitare, o vetro, lo frantumano in mille pezzi e la lamiera e il vetro in quel modo parte come schegge. E purtroppo conosco gente che ha rischiato di perdere gli occhi perché hanno i metalli e il vetro riescono a forare anche gli occhiali, certe volte, di protezione. Quindi la lama per i cespugli grossi e la frusta e tanti tipi di frusta, adesso ce ne sono così tante che c'è da sbizzarrirsi per ogni tipo di erba, un altro po' c'è un tipo di frusta. Con i cespugliatori si può fare un'azione di disturbo tagliando a più strati in modo che l'erba viene abbassata con lo stesso passaggio un po' alla volta e abbiamo già fatto un po' di compost. Se invece si fa un solo taglio, la base è l'erba che cade, rimane lunga e gli steli restano lunghi, può essere utilizzata per esempio per i conigli, per altri animali, quindi la possiamo utilizzare come fieno. Se la si taglia lunga e se la lascia a terra ci mette poi più tempo per decomporsi e soprattutto quando secca può essere materiale pericoloso per il fuoco. Altro aspetto da considerare, innaffiare. E qui si apre una parentesi enorme perché una piantina di albero da frutto. sempre la dobbiamo ribadire, venendo da un vivaio che è stata super coccolata, andando a mettere un terreno qualsiasi del sud Italia, a meno che non siete in una zona di montagna molto piovosa, purtroppo in Puglia forse ci potrebbe essere solo qualche nicchia, sì e no sul Gargano, ma lì c'è il bosco quindi ci sono sicuramente ben pochi campi, ha bisogno di essere irrigata e vedremo più nel dettaglio come irrigarla, perché quella piantina non è colpa sua che non ce la fa, è l'ambiente da cui proviene che l'hanno stracoccolata, straviziata e non ha un apparato radicale molto lungo e profondo. Prima uno dei primi sistemi che si può attuare, ne abbiamo parlato a sufficiente sulla paccia matura, quando viene raccolta la paglia nei campi agricoli ha un prezzo molto basso, per cui qualche balletta piccola come queste qua che stanno in alto a sinistra, eccole qua, qualche balletta di dimensioni un po' più piccole che può essere maneggiata, si può acquistare a prezzo ragionevole e poi conservare, certamente dovrebbe stare all'asciutto se no comincia a fare compost o comunque si trova. Ecco qui per esempio c'è una piantina di presumibilmente questa penso sia una paulonia, una pianta che viene dalla Cina, è una crescita velocissima con abbondanti innaffiature o con abbondanti precipitazioni. È stata fatta la pacci matura come? Con un substrato, in questo caso mi sembrano dei fogli di giornale, quindi del cartone, giornale, materiale deperibile e poi la paglia. Non conviene fare il contrario perché se mettiamo il giornale o il cartone sopra e la paglia sotto il vento la porterà via, quindi serve a bloccare l'asportazione da parte del vento di quel materiale. Si può usare la paglia per fare prima e se ne ha in grande quantità, oppure bisogna cercare di raccogliere tutto intorno quello che si trova e quello che le nostre stesse piante producono. Poi ancora, quindi pacciamare diventa indispensabile per ridurre la quantità di acqua e mantenere umido il terreno perché se il terreno non rimane umido i nutrienti della pianta non li può sorbire. Ferma la crescita e il primo anno la vostra piantina vi crescerà a 5 centimetri. Di questa velocità, fate un po' i conti, ci vogliono almeno 3 anni affinché comincerà a vegetare con dei rami lunghi 50-60 centimetri che è una lunghezza media per un melo, per un mandorlo, per un pero che è stato piantato. In condizioni normali, nella frutticoltura moderna la pianta deve crescere anche un metro, un metro e mezzo nei primi anni. Ah sì, a proposito dei giornali, ecco c'è l'altro problema, c'è l'inchiostro, l'inchiostro può essere venenoso, quindi bisogna fare attenzione a quello che si sceglie. Magari io consiglierei più dei cartoni, oppure l'ideale sarebbero le stoffe di juta o canapa, i vecchi sacchi che si usavano una volta di canapa per la frutta. Anche i fiscoli degli olifici, però mi pare che non siano biodegradabili perché hanno delle porzioni. Ah ok, invece sono di canapa, sì giusto. Grazie perché i nuovi fiscoli dove veniva pressato l'olio, quelli nuovi hanno delle componenti fatte da fibre e plastiche. Servono a pacciamare ma poi non si consumano mai. Tra l'altro in discesa ci si può anche scivolare quando sono bagnati perché sono sempre impregnati d'olio. Ci si può sbizzare a inventare tutto quello che può essere utile per la nostra pianta. Raccogliere era il problema che avevamo già affrontato a proposito del fatto che i frutti quando maturano cadono a terra, ci dispiace tanto e li lasciamo lì. Lasciare dei frutti sotto una pianta significa allevare un sacco di microorganismi, dalle muff alla drosofila, alle mosche che poi volano e ritornano su. Quindi si deve raccogliere, togliere dalla pianta il frutto quando è maturo e in qualche modo, avevamo parlato abbonandamente, riciclarlo o con gli animali domestici o interrandolo o portandolo più lontano. Però mai creare questi accumuli che possono... Questi problemi diventano pericolosi e diventano dei problemi alla lunga, non subito. In tre anni un albero si pianta, dopo tre anni comincia a fruttificare, per due o tre anni cadono i frutti e restano a terra, non succede niente. Allora lui dice vabbè non fa niente, tutte sciocchezze quelle che ho sentito. Dopo vengono i problemi, possono venire anche dopo il settimo, ottavo, decimo anno, perché è la quantità di accumulo che poi ne pregiudica la qualità. Potare, io ho messo raramente, perché potare è un'azione traumatica alle piante come quella che avviene quando si va a smuovere un bel tappeto erboso dove le piante stanno in equilibrio. Infatti ho apportato questo sistema alle mie piante per mancanza di tempo, cioè non avevo tempo a potare per esempio i meli. Non li ho potati, ho fatto una sfoltitura leggera nei primi anni per dare una forma idonea alla crescita e le lasciate andare. Non avete idea quante persone ogni volta che le vedono dico ma quelli meli perché non li spunti sono troppo alti, sai quanto diventano? E io gli rispondo quanto diventa un albero di melo? Quanto è una sequoia? Quanto è una quercia? È un melo, resterà sempre un melo. È innestato tra l'altro su un portinnesto franco, non è neanche un selvatico, so già che mi arriva a 6-7 metri al massimo e rimane lì. Intanto fruttificano che è una meraviglia. Ma sapete cosa vuol dire non potare certe piante? È un vantaggio enorme, non lo posso competere certo col mercato, ma la soluzione per me è sufficiente dato che i frutti poi sono di buona qualità e gli interventi di potature che sono complicati, sono anche pericolosi quando si va sull'albero, specialmente se è bagnato e quant'altro, diventa una passeggiata. Quattro sfoltite qua e là. Adesso però mi dispiace che introduco qualcosa che diventa complicato se non si hanno delle conoscenze perché quelle quattro sfoltite qua e là sembrano semplici per me ma che per chi va ad approntare diventa un problema. Magari durante una prova pratica sul campo vi posso mostrare qualche cosa del genere, come indirebbe potata una pianta. L'ideale alle piante è quella di non tagliargli mai la testa. Vi ricordate a proposito dell'intelligenza della radice che sta sotto, si allunga? L'apice radicale è quello che ha un bel po' di conoscenze del suolo e decide dove, come, infilarsi per far crescere la pianta. Gli apici, quelli che stanno in cima, i più in alto, sono proprio quelli che decidono la stessa funzione dell'armonia e della cioma rivolta verso il cielo. Allora se abbiamo degli apici troppo alti, non si spuntano, non si trangiano come se la pianta fosse una siepe, ma vanno sfoltiti e abbassati, del tipo se questo è un albero, ho tanti rami, tutti che diventano degli apici, posso togliere questi e lascio quelli più basso. Sono più in basso, ma ci sono sempre degli apici all'esterno tra l'altro, così ho l'illuminazione al centro della pianta. Queste e questo non vanno tagliate. Se diventano lunghi vengono sostituiti alla rivolta con degli altri apici che usciranno tutti intorno o più interno alla pianta, ma lasciati liberi. Questo sistema va bene per peri, meli, nocciolo, cachi, la maggior parte della frutta a foglia caduca, delle fruttifere a foglia caduca. La raccolta può diventare un problema, però è solo una volta l'intervento, si raccoglie solo una volta. È meglio raccogliere un po' più in alto che potare la pianta, perché io ho dovuto fare una scelta a parità di vantaggi, se non la lascio andare a 6-7 metri, poi la devo anche andare a potare. Se la vado a potare si crea uno squilibrio, la pianta non fruttifica, quindi comincia a scappare un'altra volta verso l'alto. Il problema più spesso che ritrovo in tutte le persone che mi chiedono ma io ho un albero come devo fare che cresce troppo, quando gli dico non spuntare i rami mi guardano come un alieno, perché dicono che cavolo stai dicendo, ma è possibile non spuntare i rami? Le piante si potano, è normale che si devono potare. Sì, ma nei nostri ambienti piccoli e limitati, sotto ogni punto di vista, si dimenticano che una pianta potata poi deve essere trattata, disinfettata. Io non ne ho bisogno di disinfettare. Una pianta potata devi conoscere la fisiologia come un medico conosce la fisiologia di un paziente, perché se sbagli la potatura fai un'abbondante produzione di foglie e di rami. C'è anche Gianluca dietro, sì. Sicuramente abbiamo toccato l'argomento. È finita la nostra collaborazione. Sì, no, condivido alcune cose fino a un certo punto, però volevo dire che... quello che vuoi dire, perché tu hai degli agrumi, gli agrumi sono dei sempreverdi e hanno altre fisiologie. Io mi riferivo a piante e a foglia caduca, ho detto. Sì, 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 però anche per le piante a foglia caduca, come avevamo già parlato anche tra di noi, avere un eccesso di chioma riduce la solazione all'interno della pianta, che favorisce lo sviluppo dei frutti e la maturazione, oltre a che creare un microclima proprio lì nella pianta che favorisce lo sviluppo di alcuni batteri, di alcune... E funghi, muffe però. E muffe. Quindi secondo me la potatura è una di quelle cose che in un certo senso un po' può, soprattutto per alcune piante da frutto, va fatta, anche perché può aiutare una pianta che praticamente... Ho capito Gianluca dove vuoi arrivare. Se tu mi dici che hai una pianta deperita, disordinata, disomogenea, squilibrata, va fatta una potatura di ritorno. Le potature non sono solo tagliare qua e là, sono delle conduzioni che si applicano alla cioma della pianta. La potatura di ritorno è quella che viene fatta a dei rami grossi che vengono accorciati in grande quantitativo e vengono portati a dimensioni brevi in modo che la linfa li raggiunga velocemente. La potatura di ritorno si fa spesso sui grandi e vecchi olivi, perché i rami poi potrebbero essere spezzati dal vento e sono ormai troppo grandi anche per essere raggiunti e si disperde la limpa. Ma quella è la potatura di ritorno. Io mi riferivo alle nostre piccole piante del giardino e dintorni allevate partendo dall'inizio. Quindi piantina comprata, la lasci andare, gli dai una forma, avevo detto, gli dai una forma aperta in modo che c'è la luce all'interno. Certo che va data. E ti aggiungo un'altra cosa, ad alcune piante, non tutte le piante hanno bisogno di una forma aperta. Ci sono alcune piante che hanno una struttura piramidale. Ha addirittura anche alcuni peri e meli. I miei, per certi versi, sono a forma piramidale. La forma piramidale permette un'illuminazione equilibrata dalla cima che è più stretta fino ai rami inferiori che sono più larghi. Lo squilibrio viene quando si pretende di aprire troppo al centro e la chioma viene come un trapezio rivolto all'incontrario. Allora i rami esterni in alto che fanno ombreggiano quelli inferiori e lì diventa una tragedia. Perché anche se tu la pianta la porti molto all'esterno e infatti tu negli aranci l'avrai vista e lo sai, la chioma è perpendicolare ma non ritorna sotto. La potatura è un argomento delicato e che va fatto bene. Perché se va fatto bene è meglio non farlo. Io a questo volevo arrivare. Sì, però alcuni concetti fondamentali, ad esempio se alcune piante dal punto di innesto emettono più rami che partono, sappiamo già che se li lasciamo tutti andranno a strozzarsi tra di loro. Certo, torniamo a quella che era la problematica principale. Io sono d'accordo, poi tu ci dirai quello. C'è la mia riflessione, la mia esperienza. Ci troviamo bene e si può continuare a parlare molto di questo perché Gianluca tu applichi la tua tecnica a una realtà produttiva. Quello da cui parto io è qualcosa di più elementare, una realtà per il bisogno familiare. Avevo detto all'inizio di questa lezione la differenza tra coltivazione intensiva e quella familiare. Tutte le persone... Io penso che riguarda una realtà produttiva che mira a fare reddito, ok, le devo potare ogni anno in un certo modo. Chi invece deve tenerlo per la casa deve dargli un'impostazione di potatura che avrà molto da dire sulla vita che potrà fare quella pianta e anche se non si fa ogni anno, almeno ogni cinque anni per sommi capi senza eccedere nello sbilanciare la pianta bisogna farla. Certo, stiamo dicendo la stessa cosa perché sono due argomenti molto diversi. Non è semplice gestirli perché tutte quante sembrano piante, molti operatori privati vedono le grandi piantagioni, tutte curate, tagliate, tutte in fila per due con il resto di sei. Ma nel giardino non è così, non è la stessa situazione perché il primo problema, ripeto, dimenticano di disinfettare. E poi creare squilibrio a una pianta è molto più facile che invece mantenerla in equilibrio. Se una pianta la lasci andare, produce una forma perfettamente equilibrata, tra cui anche l'olivo e io quando l'ho scoperto questa cosa, come una forma equilibrata, se la lascia andare, l'arancio è una pianta al limite perché viene... Io produco anche altre cose per uso personale, albicocco, anche la vite, però voglio dire io mi sono rifatto sull'importanza della potatura a quello che ci hanno tramandato i nostri nonni, bisnonni e tutto quanto. La potatura, prendendo ad esempio l'olivo per esempio, serve a dare il giusto equilibrio alla pianta, la giusta riazione. E se te la lascio andare da piccina non gli darò la possibilità di... diventa... No, c'è una differenza, se la lasci andare da piccina ti farà tanti frutti piccoli, è lì il problema. Tanti frutti di piccole dimensioni, la frutticoltura intensiva non permette che una pianta faccia dei frutti di piccole dimensioni, devono essere grossi. Ecco perché sembra apparentemente che questo discorso si va ad indrecciare, ma sono due strade diverse già dall'inizio. Anche per una comodità di lavoro, di viabilità... Ecco, ecco, ecco. Ti ringrazio che stai tirando in mezzo tutto ciò che avrei dovuto dire. Sì, perché devi lavorare, devi passare, devi raccogliere e ci devi andare molte volte nello stesso filare, molte volte avanti e indietro. Ma chi ha due piante di arancio, ci va ogni tanto a raccogliere la piede con una cassetta non ha lo stesso problema. Ecco perché sono due situazioni diverse. Tu hai bisogno, e mi chiedi, di coltivazioni specifiche, specifiche adattate a una produzione per livello commerciale. No, poi c'è anche un altro concetto. Se la pianta, scusa, se la pianta viene eseguita soprattutto nei primi anni nelle potature di impostazione, si fanno tagli piccoli, non c'è neanche tanto bisogno di andarle a disinfettare. Perché poi il vento... Asciuga. No, 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 dico, se una pianta la lasciamo crescere così, se non si rinforza le branche che dovranno sostenere poi tutto lo sviluppo della pianta, se ne hanno di diverse, che succede? Se c'è forte vento, rimangono tutte più sottili e molto più deboli. Allora c'è la neve, c'è il vento, c'è la pioggia, si squarciano le piante e poi lì vanno le infezioni e muoiono le piante. Si desca un altro meccanismo, Gianluca, che queste piante di cui mi stai parlando sono quelle piante che hanno estrema bisogno di cure. Sono piante delicate. L'albicocco, addirittura alcune varietà, se non viene potato, secca nel giro di dieci anni, muore completamente. Perché il portinnesto e la varietà che sta sopra richiede le potature. E perché richiede le potature? Pure per fare i frutti tutti grossi e omogenei. Ho fatto questa esperienza e ti capisco. Sono sempre le due solite direzioni, ma poi ho innestato anche degli albicocchi antichi di dimensioni più piccole e non ho avuto questo stesso problema. Anche se la maggior parte, rimanendo agli albicocchi, la maggior parte degli albicocchi moderni sono tutti bisognosi di potature. La potatura può essere, per esempio, se abbiamo avuto un inverno piovoso, favorevole, hai messo una bella vegetazione la pianta. Serve anche per regolare la capacità di carico che ha quella pianta. Perché poi, se abbiamo... Dei rami sbilanciati si possono spezzare anche... No, no, no. La primavera, che le foglie sono molto grandi, la pianta avrà un fabbisogno idrico e nutrizionale maggiore. E io posso regolarmi, in base a quelle che sono le mie potenzialità del terreno e della possibilità di andarle a innaffiare, la regolo. È come se guardo un bambino e capisco se può portare un peso di 50 kg o un peso di 5 kg. Vai a bilanciare. E quindi io gli do la possibilità di maturare lentamente perché a volte va in stress la pianta e matura molto presto. Certo, ne avevamo parlato. Ed è vero tutto questo. Ti ripeto, sono solo diverse le esigenze di chi sta ascoltando, se è una conduzione economica o se è familiare. Tornando a noi velocemente, volevo farvi vedere degli esempi di potature molto molto indicative. Quando si deve tagliare un ramo, non si taglierà mai troppo rasente alla gemma perché questa gemma poi è soggetta a scosciatura. Cioè si può rompere quando cresce perché non ha un solido aggancio nella parte del taglio. Neanche il taglio all'incontrario va bene perché porta umidità a ristagnare verso la gemma e quindi attacchi i fungini. Neanche un moncone troppo lungo va bene perché un moncone troppo lungo muore, secca e diventa una porzione facilmente attaccata e anche queste da patogeni. Il taglio ideale sarebbe quello lì, l'ultimo a destra con il segno verde dove si lascia una piccola porzione di legna al di sopra della gemma. Quella piccola porzione che di solito è mezzo centimetro circa serve come supporto alla gemma finché cresce e poi con il taglio obbligo fatto all'incontrario la gemma, il legno facilmente lo avvolge e lo chiude. Infatti il legno della pianta su un ramo tagliato in questo modo cresce dalla parte più alta, lo mostro con il mouse, cresce dalla parte più alta verso il basso. Immaginate qua se deve crescere dalla parte più bassa verso l'alto, non ce la fa e rimane sempre un pezzettino scoperto ancora per molti anni, più tempo rimane scoperto più è un problema per l'infezione. Se è troppo corto si può rompere, qui non riesce a chiudersi bene, questo ancora peggio che mai, non si riuscirà a chiudere mai perché è troppo lungo, in questo caso si dà la possibilità di poterlo farlo chiudere e cicatrizzare, specialmente se è una pianta con un astone, quella giovane che dicevamo prima, e va su velocemente. La manutenzione ripercorre queste pratiche che sono solo alcune, ma sicuramente ne possono trovare altre. Questi dati servono a dare delle indicazioni di massima perché si comincia a partire da qua e scegli rimuovere o no, innaffiare o no, tutto resta presto. Compostare, sfalciare, potare, raccogliere. Però ci sono delle operazioni che comunque come la raccolta e lo sfalcio nelle piantine piccole si rende, non diciamo, indispensabile al 100%, ma quasi. Dipende sempre noi quanto tempo vogliamo dedicare alla crescita di queste piante. e va bene. Passo ancora più avanti alla prossima lezione. Il microfono, se per favore, perché così posso? Richiedo un intervento tecnico superiore perché qua il computer con me si rifiuta. Io volevo chiedere in merito a una conduzione di tipo naturale. Sì? Più è naturale, meno interventi dovresti fare. Io so che la Food Forest una volta che è partita... Va avanti da sola. Quello che dicevo io ai nostri meli... Io non voglio più potarlo. Sì, fruttifica bene perché va in equilibrio. Il problema, certo, se i frutti te li fa piccolini e poi dici ma come sono piccoli non mi piacciono, allora è tutt'altra storia. Però è proprio il succo di quello che stavo dicendo. Una conduzione naturale vicino alle esigenze della pianta anche se, però attenzione, parliamo di piante addomesticate ma che abbiano ancora delle capacità di vivere in modo naturale. Per esempio il sorbo, di cui avevamo parlato prima, il nespolo giapponese, quello giallo che matura maggio-giugno, non hanno bisogno di grossi interventi nel nostro giardino, anzi quasi per niente. Se si va a potare lì si crea subito uno squilibrio perché sono molto delicate. E poi anche i ciliegi. Il ciliegio è innestato sul prunus male, sul cerchio di Santa Lucia. Una volta che è stato pulito dai polloni, una volta che è stato lasciato andare, assume già da solo una forma rotonteggiante. Non diventa mai verticale perché è un arbusto. No, da noi va a venti metri. Ma quello è innestato sul ciliegio selvatico. No, no, no. È diverso il portinnesto. Cioè il selvatico sotto e diventa a venti metri è ciliegio selvatico, un albero dei boschi usato anche per il legname perché diventa così grande. Il ciliegio selvatico utilizzato in Puglia invece per terreni aridi e anche in tantissime altre zone dell'Appennino, di piccole dimensioni e quasi in arbusto. Era quell'albero che avevamo visto là fuori di forma rotondeggiante, come la sua chioma rotondeggiante così influisce sul portinnesto. Al di là di qualsiasi tipo ci vai a mettere. Io ho circa 30 varietà di ciliegie e ce ne sono alcune che si chiamano assurgenti o piramidali. Ci hanno tutti i rami rivolti così in parallelo verso l'alto. Comunque questi rami paralleli vengono carichi di frutti dal punto dell'innesto da 50 centimetri ad andare su e non crescono più di tanto. La crescita in altezza all'inizio è veloce, poi si calma la pianta. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza perché la pianta si ferma, si calma, non cresce all'infinito. Parte velocemente se ci sono nutrienti perché vuole subito raggiungere la dimensione adulta. come i ragazzi che vogliono subito diventare grandi. Poi non è che si cresce all'infinito. La crescita all'infinito diventa sempre più limitata. Sì. Grazie. Allora. Adesso vediamo a proposito del Giardino Foresta come concetto di vita. Forse è il riassunto di tutto quello di cui abbiamo parlato. è un concetto di vita per noi e per darne tutti quei benefici, quei vantaggi, quelle opportunità che avevo sintetizzato nei giorni precedenti. Perché il Giardino Foresta ha delle possibilità, si dice a ventaglio, e le tecniche di coltivazione sono a ventaglio. da tecniche minimamente o per nulla impattanti, come il non rimuovere il terreno, a tecniche un po' più drastiche, come la potatura. Allora, questo è il nostro Giardino Foresta. Le piante sono diverse, tutte specie diverse. Per la maggior parte, qua c'è un'altra situazione da valutare, per la maggior parte, sono piante importate da luoghi esterni. Quindi già questo la dice lunga sulle problematiche che andiamo ad affrontare. Per quanto il carrube dell'ambiente mediterraneo, ok, sia resistente. Per quanto anche il mirabolano, il susino mirabolano, il pronosumabile, male per resistente. Però poi va a modificare quella che era la struttura della pianta, l'innesto. E quindi la pianta subisce un po' di trasformazioni. E ci sono piante di tipo ornamentale, che spesso vengono infilate perché hanno anche loro una funzione piuttosto elevata. Mi permetto di dire elevata perché una pianta ornamentale, come fosse anche la palma nana del Mediterraneo, è una pianta a rischio di estinzione in natura. Cosa che non avevo detto i giorni precedenti. Questa palma vive solo su delle rocce in Sardegna, Capri e qualche zona del Circeo e della costa tirrenica, fino in Sicilia. In alcuni punti è riuscita a riprendersi, sta andando benino. Però è una pianta a rischio di estinzione. Cioè significa che ce ne sono poche piante, pochi individui sparpagliati su un territorio enorme che è tutta la fascia del Tirreno, la fascia costiera del Tirreno. Cosa significa? Coltivare una pianta nel nostro giardino comunque significa promuovere e conservare la biodiversità del luogo. Oltre che poi una pianta resistentissima al caldo, non ha bisogno di tante cure e innaffiature. Di per contro ha le spine, quindi non può essere abbracciata per un po' di spiritualità. Andiamo avanti. Il giardino foresta può essere sviluppato, è scritto lì, su superficie, l'estensione molto variabile. E questo dà la possibilità ai nostri interventi in base a quelle che sono le nostre potenzialità di avere a disposizione un po' di terra. Mi si chiedeva prima, a proposito di dimensione e superficie molto variabile, in città, e io immagino chi vive in città e non ha a disposizione dello spazio a sufficienza, si sta già pensando, e non è una novità, di allevare delle piante anche sui terrazzi. I famosi giardini pensili, con delle strutture adeguate di isolamento, ci sono dei tecnici che si occupano specificamente di questo tipo di giardino. E beh, perché no? Anche su un terrazzo, in condizioni idonee, non troppo insolazione, o parziale ombreggiamento con alcune specie selvatiche, si possono mettere dei piccoli arbusti oltre gli ortaggi. Piccoli arbusti o piccole piante, arbusto e piccole piante da frutto. Quelle famose forme nane che vi dicevo, il ciliegio nella forma nana che arriva a due metri d'altezza. E con un po' di, anche in quel caso intervento, si può mantenere anche più basso. Allo stesso modo il melo nano, l'albicocco nano e quant'altro. Ce ne sono tantissime di forme piccole. E' interessante questo discorso perché le superfici urbanizzate sono sempre in costante aumento, anche se sembra che ogni tanto lo fanno costruire, però sono in aumento. e le superfici quindi da poter utilizzare, ce ne sono insomma a Iosa, ovunque nelle nostre città, a seconda dei climi, a seconda delle situazioni, si possono mettere delle piante. Vi assicuro che esistono delle piante resistentissime che possono vivere sui terrazzi, come le piante grasse, alcune piante grasse possono vivere sui terrazzi con un minimo, lì si innesca tutto un sistema che forse qualcuno è molto esperto più di me e sa bene che gli si fa una specie di strato inferiore dove l'umidità si cerca di controllare e di contenere perché se piove o se si innaffia non è che tutto deve essere dilavato velocemente, quindi un terreno che possa contenere l'umidità o dei pozzetti, delle vasche e quant'altro dove l'acqua addirittura può essere riciclata. Tutta l'acqua in eccesso da questa irrigazione che viene fatta può essere riciclata. Oppure si possono mettere delle piante che non hanno bisogno di quasi nessuna irrigazione come le piante grasse. Certo le piante grasse se sono sottoposte a stress 3-4 mesi senza acqua la fotosintesi non la faranno tanto in efficienza però abbiamo poi il resto dell'anno che la situazione è un po' più fresca e queste piante comunque producono ossigeno. Anche i terrazzi si possono utilizzare come i balconi. Naturalmente mi rendo conto che la superficie è sempre circoscritta e limitata ma se si ha voglia di coltivare qualche cosa insomma io dico che la si fa crescere pure sui tetti. In Irlanda tra l'altro ho visto ho visto delle foto tempo fa che c'erano delle case coperte di strati di torba credo terreno con i prati sopra. Credo che erano da isolante non so se era una situazione locale o se un po' più diffusa però in molte zone del nord Europa addirittura l'erba cresceva pure sui tetti. Scusami ti passo il microfono perché forse hai qualche indicazione in più delle mie. No 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 ma nel passato si faceva il tetto dalla paglia. Ah sì sì senz'altro dalla paglia. Forse questa paglia poi col tempo dava luogo a un substrato e vi nasceva dell'erba. Vabbè può darsi che era una situazione insomma molto molto limitata. Andiamo avanti. Allora questo qui è un disegno schematico quando qualcuno mi chiedeva come si può dividere il mio terreno le aiuole si possono fare come meglio si crede con una strada centrale eccola qua, una strada centrale che passa e divide in due una sorta di torta. La casa al centro. Perché al centro? Perché in questo caso la casa è importante se si ha il terreno tutto intorno per proprio rifugio. Arriva un temporale la raggiungi da tutti i punti. Se la casa si trova sull'estremità e il terreno è lungo magari è stretto è lungo due o tre ettari a volte succede che almeno nelle zone un po' più rose c'è bisogno di avere un riparo in questo terreno perché se arriva un temporale come spesso succede non si fa in tempo ad arrivare a casa. è una situazione un po' idilliaca ma non impossibile perché anche in questo caso che sembrano delle sono infatti delle capanne o delle baracche e quant'altro riprendono pari pari quelli che sono i giardini di alcune città grandi città europee mi riferisco a Milano, Berlino hanno delle superfici le persone hanno a disposizione dal comune delle superfici da coltivare e pagano un minimo di affitto ne fanno degli orti è una piccola casetta per ripararsi in caso di necessità ci vanno a fare solo magari le grigliate la domenica con gli amici però quello è un forest garden fatto per bene per le loro necessità per le loro esigenze meglio che stare in città sicuramente è molto meglio andare lì a distrarsi a rilassarsi e soprattutto perché queste aree non sono molto distanti dal luogo in cui si vive anche per la solita problematica della manutenzione eccolo qua un altro esempio un po' estremo riciclare addirittura delle damigiane quelle di plastica dell'acqua dell'olio di 5 litri questi sono dei conditori da circa 5 litri forarle qui la foratura è stata fatta anche sulle pareti nel nostro ambiente mediterraneo la foratura sulle pareti non è necessaria perché l'acqua è poca e quindi non ci saranno mai grossi problemi di inondazione all'interno di questi contenitori piuttosto la foratura è indispensabile nella parte inferiore da sotto perché il drenaggio deve essere costanto questo tipo di coltivazione può avvenire dove lo spazio è veramente ridotto e dove si vuole fare un piccolo orto eccolo qua questo è un piccolo orto pensile però in ambiente mediterraneo richiede delle cure abnormi perché quei contenitori esposti al sole asciugano in un modo impressionante l'avevamo inserito come idea magari in sicurezza di coltivarci le cipolle e le lattughe ci si potevano mettere altre piante ornamentali che coprono il tutto e formi alla fine una specie di piramide una montagnola tutta di piante verde come per esempio quella pianta che era venuta fuori stamattina il fico degli Ottentotti che produce dei rami molto lunghi e se messa su un balcone scende anche per 2-3 metri verso il basso Etica ai principi di progettazione in permacultura e qua sicuramente ne sapete più di me io vi posso insomma per chi la prima volta si trova davanti a questa parola queste idee posso dare degli appunti dei suggerimenti però da valutare molto bene al luogo in cui si vanno ad applicare allora primo numero uno osserva e interagisci quello che dicevo i primi giorni e che qualcuno di noi mi ha detto bene ma io sono stato là a guardare le mie piante finché mi è venuta un'idea è un sistema è un approccio si evita di fare errori però richiede un po' di tempo osserva e interagisci interagisci perché tu sei parte dell'ecosistema come dicevamo ancora precedentemente fuori durante le pause anche l'uomo diventa parte integrante di quell'ecosistema anche se ci mette le mani sopra comunque è un elemento che ci sta dentro mi è sfuggito di inserirlo all'essere umano perché l'avevo dato per scontato dato che quel sistema artificiale da solo non va da nessuna parte mi riferisco al giardino all'orto che viene messo lì e poi abbandonato e i casi di abbandono delle piante sono quelli più diffusi perché si mette un albero e poi ci si dimentica e non funziona specialmente con gli alberi da frutto gli ortaggi peggio ancora se avessimo dei climi molto più piovosi con l'acqua dal cielo forse forse qualche cosa si riesce a compensare ma in ambiente medierraneo nei primi periodi bisogna interagire anche con l'irrigazione raccogli e conserva energia non è solo l'energia data dalla frutta ma anche quella dal compost assicurati un raccolto è perché la nostra grande soddisfazione è avere un raccolto ritornando sempre alle mie piccole esperienze io con i raccolti i raccolti che ottengo da queste piante mi sento soddisfatto perché non ho un parametro che mi vincola e mi limita e dice no se non hai fatto tre quintali a pianta sei fuori lo si può applicare lo si può fare in ambienti circoscritti e privati non personali volevo dire non di competizione col mercato assicurati un raccolto applica l'autoregolazione siamo qui il punto 4 applicare l'autoregolazione quella di fare in modo che le piante si autoregolano nella nostra crescita non vi scoraggiate mai se succede che mettiamo un albero e poi diventa troppo grande come mi raccontava il nostro amico stamattina a proposito del falso pepe che è diventato non un albero ma una cosa gigantesca perché con climi favorevoli in Sicilia e terreno buono diventerà più grande di una roverella più grande di una quercia ha solo vent'anni ed è grosso così mettere un albero del genere in uno spazio piccolo comporta non pochi problemi perché poi il problema non è solo diciamo taglio questo taglio quello ma anche l'affezione che si crea su queste piante io tengo come parentesi tengo conto anche la sensibilità che ognuno dice ma ci ho messo tanto per farlo crescere e forse prima di tagliarlo meglio che ci penso non due ma quattro volte i bambini perché sì loro riconoscono quell'albero quel giardino da piccoli come lo eravamo noi come un paesaggio familiare e stravolgerlo non è sempre molto bello quindi poi applica l'autoregolazione se le piante si possono autoregolare crescere in pace in armonia è meglio e qui ribadisco ancora il concetto di conoscere anche attraverso internet guide e quant'altro quanto sarà la dimensione dell'albero d'adulto specialmente per le piante ornamentali questo per quanto riguarda le piante fruttifere quelle super addomesticate la crescita è sempre piuttosto limitata specialmente se sono innestate invece gli ornamentali gli ornamentali vanno valutati bene ci vuole spazio e non devono andare in competizione con le piante perché altrimenti poi succede che bisogna fare delle scelte un po' brutte e specialmente ancora l'altra parentesi che era venuta fuori quando queste piante vengono messe sui bordi e poi creano problemi ai soliti vicini e vi assicuro che le liti d'Italia per le piante che sconfinano sono una cosa pazzesca perché molto spesso le persone sono troppo stressate e ti chiedono di tagliare quella pianta senza pensarci due volte e tu non la vuoi tagliare perché ci sei affezionato e vengono fuori dei casini insomma abbastanza rognosi c'è un regolamento sì che dice che gli alberi di alto fusto devono essere messi a tre metri dal confine ma io vi dico se voi piantate un falso pepe quello andrà a 30 metri oltre il confine con i rami il regolamento sì ragazzi però attenzione perché alcune piante quando è stato fatto questo regolamento non veniva considerato il falso pepe gli alberi d'alto fusto cioè le alberi da frutta fanno dei rami con una circonferenza di circa sei metri tre da una parte e tre dall'altra sei metri stai a posto arriva giusto sul confine ma già un noce o un pecan va molto di più e anche il carrupo dopo un po' di tempo ci arriva e come quindi da valutare la dimensione dell'albero da adulto avevo detto e lo ribadisco per chi non c'era che si deve considerare la dimensione dell'albero da adulto pari alla distanza dall'abitazione propria e possibilmente anche quella degli altri se un albero diventa 20 metri e abbiamo un giardino di 10 metri o ci rivolgiamo a una pianta della stessa specie e varietà nana oppure è meglio lasciar perdere certo c'è la soluzione intermedia dici lo faccio crescere fino a 20 metri e poi lo taglio ok è una soluzione ma è in qualche cosa insomma un po' diverso e invece è molto meglio ragionare in termini diversi l'albero diventa 20 metri lo metto a 20 metri da casa 20 metri da tutte queste problematiche perché in caso di caduta non mi arriva né sul tetto né su quant'altro sta intorno questa è una tecnica che a me pare una tecnica un sistema un'osservazione che mi pare forse banale a furia di ripeterla tante volte ma vi assicuro che è il primo errore che si combina nei piccoli giardini specialmente quando si ottengono piante in regalo a basso costo il solito albero di Natale che uno dispiace buttarle lo pianta tra virgolette per fortuna quello in Puglia non cresce più di tanto diventa nano almeno tranne in alcune situazioni dove arriva a 10-15 metri ma sulle Alpi quello è un albero che arriva a 40 metri qui non cresce il fattore limitante è il caldo la mancanza d'acqua però c'è il cedro dell'Himalaya che non è un cedro agrume è un cedro chiamato così per la fragranza del legno e delle foglie è un cedro conifera è un bestione che anche quello arriva a 50-60 metri e nei piccoli giardini come? i fichi d'India i fichi d'India secondo me hanno una distanza che può andare da giusto allo spessore della pala l'una dall'altro per fare una barriera fino a 3 metri se vuoi fare dei fichi d'India per uso alimentare il figo d'India arriva insomma a circa 3 metri d'altezza massimo 3,5 o 4 in casi proprio eccezionali quindi per evitare problematiche io lo metterei a 3 metri perché il figo d'India non era considerato una delle piante che si andavano a mettere lungo i confini lo metterei a 3 metri per evitare sempre problematiche a seconda di chi è il nostro vicino perché sei un vicino che gli si può dire senti l'albero sta in mezzo raccogliti tutta la metà che sta dalla tua parte e acconsente forse è una situazione molto più no no stavo per scondato che è meglio dirlo perché allora l'altro punto usa e valorizza le risorse e servizi rinnovabili sì a me c'è credo una roverella grande che cresce dentro al muro di confine tra me e l'altro di chi è questa chi è allora sì io la voglio proteggere ti ringrazio penso sempre non sia mai la vogliono tagliare allora sì c'è anche questo regolamento se la superficie è perfettamente in piano e l'albero sta al centro in metà ciascuno 50-50 se la superficie è inclinata l'albero è del proprietario che si trova a monte com'è da te? mi sa che inclinata mi sa che loro stanno a monte ma sta dentro a monte sì avrebbero diciamo tecnicamente maggiore diritto sulla decisione di quest'albero però insomma se vogliamo usare la nostra famosa intelligenza e la nostra famosa cultura di integrazione con tutti gli altri nostri consimili si deve trovare una soluzione insomma no no spostarlo non credo che sia tanto fattibile risorse e servizi rinnovabili rinnovabili erano tutte le risorse di cui parlavamo nei giorni precedenti sì a proposito scusa è una domanda personale io ho dei vicini che ho olive e mandorle che loro hanno un ricinto le olive e le mandorle vanno da sopra da te? sì da me ah da te vanno nell'altra parte e loro mi dicono di tagliarli tutti a livello del ricinto non so legalmente chi ha ragione sì purtroppo questioni illegali se il vicino pretende una cosa del genere e dovesse andare in mano un avvocato alla situazione si è costretti a tagliarlo ecco perché dicevo è importante andare d'accordo sì a volte alcuni vicini andrebbe bene regaliarli una cassetta di frutta e di ortaggi dall'orto per cercare insomma di armonizzare la situazione e non creare barriere si si chiama anche corruzione ma va bene perché il fine giustifica i mezzo insomma allora evita di produrre rifiuti evitare di ridurre rifiuti in permacultura significa fare attenzione a quelle che sono dei regolamenti che a volte insegnano ai bambini le associazioni ambientalistiche cioè quando si va a comprare dei prodotti di guardare quante confezioni ci sono intorno a questo prodotto a volte ci sono dei prodotti come anche la pasta che in alcuni scatoli sguazza praticamente c'è una finestrella al centro ti fa vedere la pasta come se fosse piena invece in realtà sopra ci sono tre diti di scatolo vuoto quella è un'enormità un'assurdità per far vedere il prodotto più grande della concorrenza ma in realtà lo scatolo è vuoto compri soltanto un po' d'aria perché è il peso che sta dentro del prodotto che ti dice quanto prodotto stai comprando produrre rifiuti si si può fare con un minimo di attenzione anche questa è tutt'altra situazione abbastanza impantanabile perché nella vita che abbiamo oggi non si può ridurre la produzione di rifiuti alla sera e alla mattina però si può fare attenzione ognuno nella direzione che preferisce se tu già produci nel tuo orto frutta verdura e quant'altro non hai i rifiuti degli imballaggi le cassette della plastica della frutta che poi vengono sparpagliate lungo tutte le scarpate stradali quando non servono più per te le hai ridotte purtroppo ragazzi mi rendo conto non salviamo il mondo in questo modo non lo salviamo da oggi e domani però diamo l'esempio a chi ci sta intorno e poi se questo comportamento è qualcosa che ci gratifica non ci viene niente da chiedere se gli altri ci deridono o non sono d'accordo o quant'altro ci gratifica scusate ci rende ricchi dentro non creiamo danno a nessuno e perché non farlo far parte della libertà dell'individuo insomma anche questo evita di produrre rifiuti progetta dal modello al dettaglio progetta dal modello al dettaglio anche qui ritornano quelle immagini precedenti di dividere il tuo terreno secondo quello che a te più piace delle strade parallele dei semicerchi delle torte divise a fette o quant'altro in base ai disegni che andiamo a fare però bisogna tenere considerazione delle piante le aiuole più grandi alberi grandi le aiuole piccole ortaggi o arbusti piccoli mai dimenticare che il giardino non può essere progettato da un architetto e me ne dovete scusare ma purtroppo se non si conosce la fisiologia di una pianta si fanno degli errori madornali andrebbe fatto da un architetto con un biologo con un naturalista con un qualsiasi individuo che abbia delle conoscenze e delle dimensioni di quest'albero progettarlo sulla carta e poi andarci a infilare delle piante è quello che si fa nelle ville normalmente si prende sta villetta piccolo grande che sia ci si infilano quattro piante di ulivo quelli grandi già colossali due palme un po' di erba tagliata sotto hai fatto un giardino idilliaco è abberrante dal nostro punto di vista perché a parte quell'estetica che raggiungi che è veramente limitata limitata e minima poi ti richiede una manutenzione enorme da pazzi mantenere quelle piante in quegli ambienti spesso si soffocano tra di loro perché non hanno valutato la loro crescita e non c'è bisogno di essere grandi esperti basta una guida basta la buona volontà e dire voglio quell'albero fammi vedere quanto diventa grande cosa c'è intorno sul mercato se ci sono varietà forme più piccole o se è meglio optare per un altro un altro albero con gli ortaggi la stessa cosa ma anche se il ciclo di ortaggi è veloce i danni che combiniamo non si notano perché in giro della stagione o va o viene invece con gli alberi per rimanere anche in eredità quindi progetta dal modello al dettaglio integra invece di separare integra invece di separare cioè anziché tenerle separate le piante distanti tra di loro cerchiamo di metterle un po' più vicino alla famosa distanza critica fino a quando vivono vicini ma senza farsi concorrenza nei frutteti alla distanza che viene attuata quando si fa il sesto di impianto e lì si conosce molto bene la dimensione dell'albero adulto si deve conoscere perché lì un errore significa fallimento di un'attività produttiva il caso estremo ma serve a far ragionare di integrare le piante con specie diverse e metterle secondo le loro esigenze ma non metterle troppo distanti perché poi c'è l'evapotraspirazione oppure ci vuole una conduzione a prato un po' più consistente se no il terreno con il vento altro fattore avevamo visto ed era volato via come il vento appunto appunto il vento asciuga il suolo anche una leggerissima brezza asciuga molto velocemente il suolo piccolo e lento e bello eccolo qua simbolo di una bella lumaca quello che vi dicevo quanta fretta avete quanto tempo avete a disposizione per far crescere le vostre piante in permacultura si dice piccolo e lento e bello piccoli frutti o le piante bello perché è soddisfacente che quella pianta con piccoli frutti o piccole quantità è sufficiente per noi ma ci sono anche altri casi usa e valorizza la diversità valorizzare la diversità o la biodiversità è quella anche di avere veramente uno spazio limitato davanti casa solo un piccolissimo buco nel giardino metterci un albero significa oltre che rinfrescare la casa se l'albero si trova dalla parte dove passa il sole sempre considerando le dimensioni dell'albero le istanze e quant'altro ma significa anche dare la possibilità degli animali di viverci su quell'albero io dico piantiamo gli alberi anche per farci fare il nido agli uccellini nelle scuole non è una sciocchezza è biodiversità alcuni uccellini alcuni animali non possono fare il nido se non c'è una determinata altezza della vegetazione ci sono uccelli che fanno il nido a un metro d'altezza quindi lo fanno solo se ci sono cespugli altri lo fanno un metro e cinquanta altri a due metri altri oltre i cinque sei metri quindi anche un piccolissimo cespuglio può essere utilizzato la mia grande soddisfazione è stata quella di quest'anno dove nelle piante che allevo alla rinfusa le mie piante sono allevate alla rinfusa davanti casa e hanno occupato pure il parcheggio della macchina ci sono venuti gli uccelli a fare il nido un usignolo e una capinera l'usignolo a cinquanta centimetri da terra la capinera un po' più in alto e il nido è andato bene nonostante c'erano i gatti che passavano da tutte le parti perché avevano scelto delle piante sul limite di questo spazio dove gli uccelli arrivavano saltellando tra i rami dei cespugli e si infilavano nelle mie piante io le piante le devo innaffiare con i climi che ci sono quindi sono sempre verdi e lussureggianti e sapete dove che piante hanno scelto? il cipresso comune una piantina alta così ha i rami tutti chiusi appressati e avvicinati al tronco era un habitat è stato un habitat per quell'uccello e ha fatto il nido lì ma dico io tanta spazio in tutta la basilicata proprio lì doveva fare l'ha fatto lì perché si erano creati le condizioni migliori nonostante i gatti come predatori ma i gatti come predatori non vanno a passare all'interno delle piante e io mi domando e l'usignolo sapeva che non ci vanno a passare là dentro avrebbe potuto mangiare la mamma quando costruiva il nido quando covava ecco tutti i pulcini dopo è andata benissimo a 50 cm da terra e con una bordura di piante di 50 cm quindi era proprio su un ciglio e beh quell'uccellino mi ha dato la prova che anche una piantina tenuta lì può essere stata molto utile alla riproduzione quella di male l'altro la capinera su un tasso su una piccola piantina di tasso orizzontale una pianta che cresce con i rami paralleli al suolo e ha un'altezza circa di un metro e trenta ha fatto lì il nido e ogni volta che dovevo innaffiare era un problema perché quando stava covando volava via e una volta è successo e ha dovuto fare delle scelte una volta è successo che non hanno innaffiato le piante al momento idoneo e alcune piante sono appassite poi le ho riprese però mi interessava anche tutelare si devono fare delle scelte tutelare anche la covata perché se le uova si raffrendano e si va a disturbare continuamente poi l'animale abbandona la covata e quant'altro quindi è un piccolo esempio ma la dice lunga su cosa si può ottenere e non vi dico poi quello che facevo con i bambini con Elania e tutti gli altri che venivano a trovarla di fargli vedere questi uccellini come crescevano nel tempo da piccoli nudi e bruttissimi che sono diventati carini con le penne e poi già non sono spariti perché sono volati il nido non è stato predato perché? perché era integro quando un nido viene predato di solito inclinato verso il basso perché qualcuno ci va con le zampe dentro e distrugge il nido sono piccoli esempi ma grandi soddisfazioni scusatemi ancora eravamo qua usa e valorizza la diversità usa e valorizza il margine è il margine dei campi quello di cui parlavamo e mi avevate chiesto a che distanza le piante dai confini sì si possono valorizzare mettendo di solito delle piante di basse dimensioni ci sono dei regolamenti ci sono delle leggi vi ripeto per gli alberi l'alto fusto 3 metri ma secondo me 3 metri sono pochi perché la legge non è stata aggiornata un metro per gli arbusti e 50 centimetri per le siepi ma una siepe di lauroceraso ha un ingombro di un metro a destra e un metro a sinistra quindi quei 50 centimetri se li mangia ed uscirà sconfinerà dall'altra parte nonostante poi la manutenzione che ci vuole neanche a parlarne le siepi le forzature simmetriche quelle sono tra le aberrazioni peggiori che esistono sono belle da vedere perché fai una bella siepe ma la manutenzione le problematiche di una siepe di quelle simmetriche sono enormi spesso perché sono anche piante non del luogo si ammalano si infettano e quant'altro allora cosa c'è al centro di tutto questo sistema? c'è quello di curare la terra il famoso schema di qualche giorno fa che diceva proteggere il suolo aumentare la fertilità conservare l'umidità evitare il ruscellamento è quello curare la terra insieme anche all'aumento della biodiversità poi condividere con equità e curare le persone perché se noi stiamo in pace in armonia con quello che sta intorno si sta in pace in armonia con le persone condividere questa equità io faccio dei risultati molto veloci ma poi ognuno di voi può applicare il principio alle proprie necessità condividere questa equità perché eccole lì la fetta quello che dicevamo scherzando la corruzione no non è corruzione regalare al vicino una cassetta di frutto di ortaggi che tra l'altro sono in più è un sistema per migliorare i rapporti ma anche valorizzare quello che abbiamo prodotto naturalmente al vicino che lo apprezza io dico come esempio ehm globale ai ragazzi a scuola se voi avete un albero in giardino e producete delle prugne o quant'altro dei fichi quando andate dai vostri amici non gli portate uno scatolo di un prodotto industriale che non avete prodotto voi mi riferisco cioccolatini e quant'altro non vorrei fare cattiva pubblicità ma purtroppo è questa la situazione insegnate ai ragazzi a regalare la nostra frutta come un bene prezioso magari l'altro non subito lo percepisce dice vabbè ma sono brutte sono piccole sì però gli si dice assaggiate vedi un po' come sono e non è vero che poi sono sempre brutte piccole perché certe varietà di ciliegie fanno gola a tutti e nessuno le disdegna e quindi condividere con equità non solo all'interno della famiglia quindi ma anche tutto ciò che ci sta intorno ogni forma di vita merita protezione e rispetto scelto questa foto è emblematica perché quelle due foglioline sembrano proprio delle mani che stanno a proteggere il germoglio che sta al centro proteggono questo germoglio ed in realtà lo proteggono dalla evapotraspirazione dal vento o anche dagli attacchi degli insetti perché ogni forma di vita è qualche cosa che è unica di per sé anche se dura il battito delle ali di una farfalla dura in una frazione di secondo però è unica di per sé e noi la cosa grave non sappiamo quanto può esserci utile quella forma di vita è presunzione pensare di conoscere tutto di una certa pianta o di una certa o di un certo animale ancora non si conosce quasi niente per certi versi non a caso con una pianta di ambiente mediterraneo è stata scoperta una sostanza per curare la mia biologa la malaria piaga antichissima delle aree mediterranee qual era la pianta? l'artemisia l'artemisia è una pianta che in certi ambienti diventa anche infestante e ci si accanisce col decespugliatore ma ma è stato scoperto un principio nell'artemisia che è una pianta banalissima in certi ambienti cresce come infestante per la malaria allora forse c'è da pensare che non conosciamo tante cose delle piante hanno le piante hanno delle caratteristiche intrinseche che non possono essere svelate così velocemente e con un approccio immediato quelle che noi conosciamo sono solo quattro cose i frutti l'ombra il benessere magari tutti i valori nutrizionali ma non quando riguarda la farmacopea i principi i principi attivi ricavati dalle piante sono tantissimi e si fa questo molte industrie mandano degli esploratori nelle foreste inizia a cercare principi attivi nuovi una volta che le hanno individuati magari grazie alle conoscenze di qualche anziano di un villaggio remoto le portano da loro e le ottengono chimicamente grazie copiare e incollare lo sappiamo fare tutti però prova a produrre quella molecola nuova che invece è partita da zero e magari una pianta che la fa da millenni e noi non avevamo la minima idea di cosa poteva darci questo è sempre un esempio per farci riflettere ok abbiamo finito con le nostre lezioni e se ci sono domande possiamo rispondere sì però il microfono per favore per dare modo all'audio qualche domanda e poi ci spostiamo facciamo un po' di pausa intanto che facciamo la pausa ci spostiamo in un ambiente qui intorno per quanto riguarda le leguminose sì che ne so i nostri genitori i nostri non ci insegnavano spesso che bisognava metterli piantarle da una parte anziché da un'altra perché c'era il risultato era migliore nel senso che erano si chiamavano si cuocevano meglio erano più tenere ah da una parte da una parte cosa intendi scusami su un terreno su un certo tipo di terreno o un altro no su un appezzamento anziché un altro un altro conoscevano indirettamente gli elementi nutrienti avevano l'esperienza che lì erano più tenere poi cucinandole è vero volevo capire com'era possibile com'è possibile questo cioè nel senso qual è la differenza il quantitativo di nutrienti e la qualità dei nutrienti che stanno all'interno del terreno anche semplicemente la quantità di umidità la pianta in un luogo leggermente più fresco ha maggiore umidità nei suoi tessuti e quindi più tenera esempio un po' emblematico un cavolo una cicoria è cresciuta sulle rocce invece una in un giardino molto fertile più succulente più tenera perché oltre il maggiore quantitativo di nutrienti nel terreno fertile c'ha anche maggiore quantità di umidità in effetti almeno per quanto riguarda la mia esperienza ho pensato a questa cosa sì perché di solito mio padre per esempio gli metteva le fave per esempio sì dove anticamente lasciavano il mulo durante diciamo le ore lavorative della campagna bellissimo sì la pausa durante le pausa le soste c'era l'animale lo andavano in campagna col mulo lo attaccavano lì e facevano i lavori perfetto quindi il letame accumulato per tutti gli anni lì certo ha reso il terreno migliore con certi aspetti per quelle leguminose che ne facevate uso e questo è uno dei principi fondamentali quello di riciclare anche il tempo della pausa di questo animale tra un lavoro e l'altro certo è un'esservazione è venuta fuori da una necessità si suol dire scusate la banalità la necessità aguzza l'ingegno l'ingegno e quindi in quel caso avere delle fame più tenere quindi basterebbe arricchire il terreno con no vabbè qualsiasi cosa ma questo questo che dici è proprio e la microfono Giallù microfono questo che dici è importante perché serve proprio a introdurre e a riprendere uno dei soldi argomenti degli animali in questi piccoli spazi è certo certo l'avevamo detto abbondantemente con i polli dove scherzando dicevo che se non c'erano bisognava inventarli in certi ambienti ma è da valutare poi sempre la densità di animali per superficie di disposizione perché degli animali anche domestici come i polli tranquilli se sono tanti in poco spazio rischiano poi di rovinare il terreno non danno modo al terreno di riprendersi e di andare avanti con l'agricoltura che si faceva una volta in condizioni di equilibrio questo non succedeva perché una volta ma molto tempo fa c'era una sorta di equilibrio tra la quantità di animali che si potevano ottenere e la quantità di terreno a disposizione anche questo è stato squilibrato quando? durante la rivoluzione industriale aumento della popolazione e di conseguenza parapofta aumento degli animali di allevamento la superficie è rimasta la stessa e il terreno è stato distrutto in certi versi o la vegetazione o quant'altro c'è stato di lavamento c'è stato comportamento erosione equilibrio sì ti ringrazio per la precisazione perché è veramente pertinente e specifica altre domande? ok allora chiudiamo ci fermiamo e poi ci spostiamo all'esterno grazie a tutti ciao grazie a tutti